Nel 2 marzo del 1968 sono trascorsi nemmeno due mesi dal disastro del Belice, una scossa di terremoto che rase al suolo un intero paese, un'intera zona. I terremotati si riuniscono in piazza a Roma per protestare contro le inadempienze del governo. A loro si uniscono gli studenti che sono poco distanti in piazza Colonna a dibattere dopo i fatti di Valle Giulia. I due cortei si uniscono e se ne forma uno solo. Ma cosa ci racconta questo episodio? Ci racconta che in Italia tragedie come il Belice ce ne sono state purtroppo tante. Basterebbe ricordare quella del 23 novembre 1980 con la scossa che distrusse numerosi paesi dell'Irpinia. Ebbene, quelle tragedie purtroppo in molti casi non hanno avuto il seguito che avrebbero dovuto incontrare. Purtroppo in questo paese ancora la problematica del territorio, dei rischi idrogeologici, della manutenzione della nostra vita comunitaria è ancora relegato agli ultimi posti nella graduatoria delle questioni da affrontare. E purtroppo alle grandi tragedie hanno fatto seguito in molti casi, e il Belice forse è stato il primo, esempio, una serie di ruberie, di inadempienze, di mancata presa di coscienza della classe politica verso popolazioni che avevano subito lutti inauditi.